Spettacolare incidente, fortunatamente senza conseguenze fisiche per gli occupanti dei due veicoli, lungo la statale 16 ieri sera verso le ore 20 a Metaurilia, subito dopo la rotonda che porta verso San Costanzo. Una matiz condotta da un fanese di 32 anni che stava percorrendo in direzione Ancona secondo le prime ricostruzioni, forse per una distrazione o un colpo di sonno, ha invaso la corsia opposta andando ad urtare violentemente contro la parte posteriore sinistra di una panda che procedeva verso Fano condotta da un uomo di 71 anni residente a Lucrezia. L'urto è stato così violento da scardinare il semiasse posteriore della panda che ha fatto un testacoda mentre la matiz si è fermata poco più in là, distante alcune decine di metri. Per gli occupanti dei due mezzi fortunatamente nessuna conseguenza fisica, il 118 è arrivato sul posto ma non ha caricato nessuno a bordo, i due conducenti era accanto ai veicoli sulle loro gambe. Sul posto anche i vigi del fuoco di Fano per mettere in sicurezza l'area e di mezzi incidentati che sono stati poi rimossi con il carroattrezzi. Tre le pattuglie della polizia municipale che sono intervenute per la viabilità e per i rilievi di legge e grazie ad una deviazione del traffico operata dagli agenti non c'è stata alcuna ripercussione negativa sul traffico serale.